Figlia del principe Tassilo Furstenberg di Clara Agnelli, primogenita di Edoardo Agnelli, Virginia von Furstenberg, detta Ira, si è sposata due volte. La prima nel 1955 con Alfonso Dioenlo e Langenburg, 1924-2003, inventore della stazione balneare spagnola di Marbella, da cui ha divorziato nel 1960 per via dei ripetuti tradimenti. La seconda nel 1961 con Francesco, Baby, Pignatari, 1916-1977, dal quale divorzierà nel 1964. Dal primo matrimonio ha avuto due figli maschi, Christophe Dioenlo e Langenburg, nato nel 1956 a Losanna e deceduto a Bangkok il 6 agosto 2006. In seguito ad un'acidocetosi diabetica, era stato arrestato e incarcerato dalle autorità tailandesi per aver falsificato il visto sul proprio passaporto. Hubertus Zuenlo e Langenburg, nato nel 1959, sciatore, cantante e fotografo, Ira Furstenberg, nota socialite, ha presentato il Festival di Sanremo 1970 a fianco di Nuccio Costa Enrico Maria Salerno. La sua carriera cinematografica, articolata in una trentina di pellicole a cavallo fra gli anni 60 e 70, comprende anche collaborazioni con la Tuada. Mecellis 1967, Bolognini, Capriccio all'italiana 1968, e Bava, Cinque bambole per la luna di agosto 1970. È disegnatrice di gioielli.